Bentornati ragazzuoli con i vostri amici su Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution Stavolta l'ho detto l'ho dovuto fare due volte ragazzi Comunque allora, a parte il faccione di Madara qua non morto Messo così iniziamo a distruggere qualche culetto Allora, a me mi ci guarda sempre male perché pensano che noi parliamo di altre ragazze Ma anche addirittura ragazze degli giochi Quindi, vabbè allora, ne avevate consigliato un po' di cosi no? Però adesso che sto guardando un attimo Avevate detto, vabbè a parte Obito che lo prendo sicuramente Però, Ottobio, tecnica al campo minato Ventaglio di fuoco, tecnica richiamo statua al Gedo Tecnica richiamo colpe a 9 cune Allora, dai, facciamo così Non si può? No, ok, non si può Così neanche E che cazzo? Quindi mi tocca scegliere, però va bene, è lo stesso uomo, ho capito io però Dai, mi tocca andare con questo Non ci credo Ah, Rasengan addirittura anche lui Tecnica dell'Arem Dai, vediamo la tecnica dell'Arem Mamma mia, Obito, Madara E Cuno Amaruli Ci credo Che cagata però che non posso scegliere Vabbè, sì, Obito, si cambia un attimo i vestiti, si mette la maschera e torna sull'altro match Non so Ok, iniziamo in grado C, dovrebbe essere più fico qua adesso, eh E anche un po' più difficile, quindi Con Cuno Amaruli andiamo benissimo Eccoli qua Tutti e due, Despi, più l'altro, Mocciosetto, proprio, insulso Ok Allora Allora io direi di partire con lui, perché è il più pro Andiamo a prenderci Obito e Madara La Ordine C, corretto, va, iniziamo Ecco, vado subito da Sassai, perché Vabbè, avete capito, insomma Non lo ripeto un'altra volta C'è anche Shikamaru, sarebbe male Dov'è, dov'è Eccola Ok, nuova meccanica, Guidi, ora puoi sfruttare un nuovo meccanismo Ok, battaglia, muove rapidamente, lb vicino a Guidi, bla 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 Quindi cerchiamo sti Guidi, no Asciami stare un attimo, ok, andiamo adosso a lui Mamma mia, la potenza di sto ragazzuolo, no, proprio Oh, mica sottovalutarlo, eh Rasengan addirittura, ragazzi È diventato pro, anche lui Ammo Naruto Dopo magari riniziano la stagione di Naruto Dopo che l'hanno finita con lui che deve salvare il mondo Però, non fanno tutte tecniche Dai, cambiamo un po' adesso Ok, azioni su Guidi Automaticamente, B, ok Quindi, ok, c'è una guida, dov'è? Eccola là Via, 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 corri, via Via, via, corri, via Via, via, corri Nice, cosa devo fare? B Ho letto B Nice Vai Perciò Non l'ho capita tanto, eh Ma siamo stati noi a buttare giù quelle sfere, là Tipo, sì Allora, aspetta, no Eh, 1100 Ok, andiamo, andiamo Dov'è? Ecco, di là No, no, no Aspetta, dove è? Andi là Cazzo, corri, 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 corri No, l'ha presa Aia, aia, aia Ok, dove è finito? Eccolo qua, vai Addosso, via Descalo, descalo Fagli la tecnica No, voglio riuscire No Allora, vai addosso Ok, così Ok, nice Prendiamolo Cosa gli fa? Ah, sì, è lui Allora, eh, sì Abbiamo avuto la conferma qua Dov'è? Sasori 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 Lasciami stare Eccolo là in fondo Eh, ti nascondi Eccolo la marionetta Dal cazzo No Lasciami stare No Madonna Sai proprio zero Ok Oh, adesso abbiamo Vito Cominciò ad essere abbastanza Potenziosa Cosa è la cosa Che conosci te? Lui, quello lì Con i cappelli bianchi Eh? No Aspetta, allora No, c'è cosa Che mi sta veramente rompendo le palle Lì, grassone è unto Vieni qua Vai a mangiare le patatine Bastardo Ma possiamo fargli solo quella No, sto giocando di meno Non so, devo un attimo imparare Allora Ok No Azioni sulle Ok Quindi c'è anche quelle verticali E non ne ho più, ragazzoni Sto veramente facendo male qua Adesso Ok Sto cercando la guida Che palla Dov'è? Allora, aspetta un po', eh Eccola là Eccola là Fammi arrivare Fammi arrivare Boh, vai Cos'è devo fare? Ah, ok Devo scegliere Dai, nice Qua, qua, qua Uh, ok Ne abbiamo preso solo uno Vabbè Contro No, un'altra, un'altra Ok Uh, subito vicino Proprio Dai, dove, dove Eccola qua, qua Nice Uh Figata assurda Questa qua Vabbè, almeno hanno messo Delle meccaniche Abbastanza carine Questi qua sono belli Ok Andiamo da lui No, no Cambia Ok Vediamo che tecniche fa Vai Adesso riusciamo Niente Adesso ti becco Ok, ti becco No, la mia Oh, non ci vuole fare Niente No Nice Ok, un'andata Vediamo le altre Eh, serve meglio Però che andiamo No, da lui Sopra, sopra, sopra Vediamo Uh, figata No, cazzo Volevo prenderlo No, che da Eh, sto facendo il glitch Aspetta No, mi sta facendo male Anche loro Siamo andati Siamo andati meglio Con Stato Vediamo che mi parlano Un po' I comandi di Obito Che tecniche fa Eccetera Allora Madonna Zero Fekashi Proprio Andiamo da Sarutobi No, com'è che si chiama Ah, Akuma Azuma Azuma Mi pare una roba Ok, giù Vai Dovrebbe essere anche lui Un non morto Dai, sopra Salta Madonna mia Che voglio riuscire A prenderlo in volo Uh, c'è, c'è Dov'è, dov'è, dov'è Eccola là, eccola là Via Via Corri là No, no Lasciami stare Corri Corri Lasciami stare Corri No, no Di qua No, no, no È lì Devo andare là Madonna Sto prendendo tante di quelle botte Solo per voler andare lì Guarda quante sfere mi stanno facendo perdere Addirittura Dai, fammi arrivare lì un secondo Boh, bravo Dai Dai Bi, 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 bi Ok, l'abbiamo preso Via Subito addosso Vai, madaro Descalo, descalo, descalo Madaro, descalo No Ti faccio Vai Avete visto quando ho usato la tecnica della sostituzione Che è venuto fuori tipo quel barattolo bianco Ce n'è un'altra Uh, quante addirittura Via No Nice Ok Di qua Vai Su Ma non mi piace tanto questa È più bella st'altra Dov'è riuscire a prendere anche st'altra Dov'è? Eccola là Vai, 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 vai Vai, no Su Nice Allora, scegliamo Vediamo un po' Ok, dovremmo andare bene là Anche lui fa la palla di fuoco Ok Allora, vediamo la nonna La nonna Eccola qua Vai Ma sembra sto fuoco, cazzo Voglio fare gli ultimati giuzzi Nice Bella, 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 bella Vai, Susanne 2200 Ok Vai, addosso No, no, no Boh, così No Ma se mi stai un secondo Anche Yamato tutti insieme Vabbè Abbiamo vinto l'azzone Pensavo sinceramente di fare un po' meglio Però va bene È un po' una struma quando siete tutti lì vicini Eccetera Poi a me piace andare sopra quelle robe là Non va in alto Ok, 6000 Spero è ok Ok ragazzi, adesso possiamo iscriverci ai preliminari Allora, affrontiamo ai preliminari Bla, 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 bla Comunque c'è qualcuno che può confermarmi proprio il fatto Intanto stavolta scegliamo stanto però, eh I Ruka, là E magari prendiamo maschera Tecnica di richiamo Funerale Volpe a 9 code Eh ma è l'ultimate giuzzo Quello Ventaglio di fuoco Tecnica del campo minato No, non mi piace Funerale Dai, facciamo così Da Può confermarmi qualcuno che Eh Prendendo tante rio Si sbloccano tutti i personaggi Domanda Comunque ragazzi Mi hanno fatto vedere la stessa cutscene Dell'ultima volta Quando il torneo mondiale La posta per aver inizio La mostra in semplice Boh Ci dai fammi combattere Ma è come al solito Potevano un po' variare Dai grado C A grado D A grado B E certo Ok dai Speriamo che I Ruka Senza Non Non sia proprio schifo Perché Allora mettiamo lui per primo Poi mettiamo Vediamo Facciamo così Così Stavolta Dai Ordine corretto Sì Lasciamo gli oggetti Che abbiamo già Boh A posto Ok Vai Oh cazzo Abbiamo Naruto e Sasuke Speriamo bene Ok vai Andiamo contro Naruto Oh cos'è Trappole sul campo di battaglia L'altra battaglia Quattro Alcune causano dei danni Si fanno volare lontano Appena le tocchi Fai attenzione Ok Ok Quindi questo Va di No Lasciami stare Sasuke Che cazzo vuoi da me Con Susan No Ti uso il legno Ad attire un pugno A due legno Là Che cazzo gli ha fatto Gli ha urlato addosso Oh aveva un alito Puzzolente Però se non so Ma è impressionante Oh non so io Guardalo Vabbè Aspetta Oh oh L'allare c'è la trappola Andiamo contro Lui Andiamo Oh oh Aspetta un attimo Prima faccio la tecnica Lui E dopo vado sopra Dove No fammi andare là Fammi andare là No Mi lanci Stanno il secondo Oh nice Via 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 Cazzo Le ha schivate tutte Il foglioncello Oh Cosa sono ste robe Nella battaglia 4 Tecnica suprema Sfera di risveglio Ok Dove Ah è là No 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 cazzo Voglio la sfera Risveglio No cazzo no No l'ha presa St'altro No che palle Vabbè Se lo disco Ma no Va così No Lasci mi stare No Si è risvegliato Vaffanculo Non ti voglio Contro Però Eh La sole Eh ma perché Mi viene contro a me Voglio Sasuke Ok A 100 L'altro Ok Madonna mia Non capisco più niente Ma dimmi Chi ha più punti Di st'altro La Ok Vai vai Così 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 Adesso I fa Ma con secondo Nice Va bene Dai siamo Vatti abbastanza bene Voglio fare La tecnica Finale Li ho Bitto Adesso Vediamo un po' Cazzo Ci spawnano Sia Tecniche Sì Sì Sakura Però dobbiamo andare A Tsunade Ci spawnano addirittura Quelli per fare Vi sveglio Allora Vediamo un po' Tsunade No Prima facciamo Sakura Così mamma mia Vedete C'è Madara Con Susano Fa il Uh Dove Dove Eccola qua Eccola qua Nice Prendiamo bene la mira Dai vabbè Prendiamo solo Lui Ok Niente Neanche lui L'altra dov'è La Di là Via Dai che riusciamo Dai che riusciamo Prendiamo mira Ok bene 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 Così bene così Nice Boom Mamma quante sfere Ragazzi Vorrei aspettare Che venisse giù Anche Tanto che loro Si picchiano Intanto noi Prendiamo solo sfere Ok Sfera risveglio Dove Eccola qua Eccola qua No Mia 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 Prendila Come ha fatto Ah mi sa che dobbiamo Dargli un colpo No Tsunade risveglio Caccio ci Dei sfa di puni Veramente Ok Andiamo da Sakura Alla sto punto No Lasciami stare Un secondo Nice Dai Susano Ok Nice 1.7 Niente Continuiamo da Sakura No Tsunade Vabbè Andiamo anche a Tsunade Aia Tsunade Via Via Tsunade è unta Aia Mamma che il desfo Che ci fa No Lasciami stare Un attimo Oh C'è l'ansù Ma Com'è Voglio sfere Voglio sfere Mamma mia Esso mi venghi No Ok Sakura 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 Voglio prenderti anche Voglio prendere qualcuno Con Susan No Voglio prendere qualcuno Con Vabbè Però sinceramente Preferisco Le ultimate jutsu Del riso Adesso cerchiamo Di dargli un pugno Ai Porcellini Lì Che vengono fuori Con Sono porcellini Visto 2100 Oh Cazzo Inata Poi La tecnica Anche ad aria Non sa È inata Controlai subito Bisogna andare Nice Figata No Ma cazzo Fammi fare Almeno qualcosa Ok Vai 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 Nice Bibi 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 Ok Vedete Se lui Se lei fa Sta tecnica Qua Siamo noi Vicini Anche gli altri Ci deve Cazzo Dai cazzo Volevo prenderlo Anche al volo No Voglio cercare Di prenderlo Come si fa No Così no Oh 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 No No Lasciatemi stare Un attimo Ok A meno andiamo Qua sopra Cazzo Dai Dov'è 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 Eccolo 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 No Lasciamelo Prendere Ma come faccio Cazzo Non capisco Non mi fa mirare Il coso Eh Immagino Ragazzi Come faccio A prenderlo Se mi becca Mi deve Sfai Immaginando Dove sono Ok Madonna mia All'espo Che sta succedendo Ragazzi Io non capisco Più niente Ah C'è anche St'altro Coglioncello Poi Cosa fa Ma do Che è Fortunatamente Tornato normale Preso No No Così no Devo riuscire A prenderlo Mamma Non capisco più niente Ok Allora in teoria Vedete ci vediamo Ci vediamo alla prossima Che finiremo il grado C Ma inizieremo anche il grado B Ciao a tutti E alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti